Momenti di tensione nel corso del controllo di uno stabile in disuso in largo Parolini, dove una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine ha tentato di pugnalare un carabiniere. L'uomo Osam Moftah, noto come illibico, 30 anni, responsabile di diversi episodi di lesioni personali, avendo ferito con un coltello alcuni passanti nei mesi scorsi, ha puntato un pugnale a scatto contro un militare per guadagnarsi la fuga. Gli uomini dell'arma l'hanno inseguito per qualche centinaio di metri e sono riusciti a bloccarlo in via Miazzi. Ora per Moftah si sono spalancate le porte del Sampio X.